Successi gratificanti per il fiorettista modicano Giorgio Avola, tra cui anche la convocazione agli europei di Tbilisi 2017. Inoltre Avola chiude bene la stagione di Coppa del Mondo di Fioretto con un ottimo quarto posto nel ranking internazionale, grazie ai 172 punti incamerati e con un secondo posto tra gli atleti italiani. Dopo questa stagione, che l'ho visto impegnato nella disputa di ben otto tappe, arriva la meritata convocazione per gli europei, che si disputeranno nella capitale giorgiana dal 12 al 17 giugno prossimi. Avola sarà accompagnato dal maestro Eugenio Migliore, anche lui convocato nello staff tecnico della nazionale. La gara degli europei avrà inizio lunedì 12 giugno con la prova individuale, competizione in cui il fiorettista modicano dovrà difendere il bronzo conquistato lo scorso anno in Polonia. Successivamente si disputerà la prova squadre nella giornata di mercoledì 14 giugno, con un team composto dai due siciliani Avola e Garozzo e il ternano Alessio Foconi e il livornese Lorenzo Nista. Nella tappa di Shanghai dello scorso fine settimana, Avola ha chiuso con un nono posto in classifica, fermandosi sulla soglia dei quarti di finale. E adesso, in vista degli europei, sono in programma qualche giorno di riposo prima di andare in ritiro pre-europeo al centro di preparazione olimpica dell'acqua cetosa a Roma, per poi partecipare ai campionati italiani assoluti a Gorizia. A livello locale, grande successo anche lo scorso fine settimana ispica, per la prima tappa del CONAD Youth Project 2017, con un altro appuntamento nel pomeriggio di domani, con oltre 50 piccoli schermidori partecipanti di diverse società siciliane.